Da grande fratello Vip a Natale insieme? Tonon e Corinne Clary sempre più uniti Raffaello Tonon e Corinne Clary hanno passato il Natale insieme.È stata dunque mantenuta la promessa dell'attrice francese fatta all'interno della casa del grande fratello Vip L'ex rivale di Serena Grandi aveva invitato l'opinionista di Barbara Dunso a trascorrere il 25 dicembre insieme Detto fatto, Tonon si è recato nel casolare dell'interprete di Istoie, do per un Natale all'insegna dell'amicizia I due hanno poi pubblicato alcuni video e foto della giornata su Instagram dove, soprattutto Raffaello, è diventato una vera e propria star grazie alla partecipazione al reality show condotto da Hilary Glasi e Alfonso Signorini Insieme a Tonon e Corinne c'era pure Angelo Costabile, il fidanzato della Clary, punto Raffaello Tonon. Natale con Corinne Clary, ma non dimentica Luca Onestini Trascorrerò il Natale a casa di Corinne Clary, punto nella casa, parlavamo del Natale e solitario che mi attendeva, magari in qualche meta esotica, e lei è stata così carina da invitarmi nel suo casale, dove si intratterrà con alcuni amici Ho accettato molto volentieri l'invito aveva raccontato qualche settimana fa Tonon Anche se ha passato il Natale con l'amica francese, Raffaello non dimentica Luca Onestini Gli Onestons sono momentaneamente divisi per le feste? L'ex tronista di Uomini e Donne ha trascorso la notte del 24 dicembre in famiglia mentre la sera del 25 è stato impegnato con una serata in discoteca L'ex vincitore della fattoria ne ha approfittato per fare pubblicamente all'amico gli auguri di Natale Tonon ha pubblicato su Instagram una foto con Luca e ha scritto. Buon Natale a tutti, ma proprio a tutti, vicini e lontani Raffaello Tonon e Luca Onestini verso l'Isola dei Famosi, . E mentre Luca e Raffaello si godono le vacanze natalizie tra amici, parenti e serate in discoteca, i dirigenti Mediaset stanno valutando l'idea di mandare gli Onestoni in Honduras, come concorrente unico della nuova edizione dell'Isola dei Famosi Il pubblico ha già approvato l'idea, non resta che attendere e incrociare le dita .